Pesaro saluta Anna Maria Lugli, la regina della moda, si è spenta all'età di 87 anni Tombini ostruiti dalle fogliame e strade sporche, tante le segnalazioni dei cittadini Divieto di balneazioni, l'atto genica torna pulito, nuova ordinanza per Baia Flaminia Rossini Opera Festival, il 2024 anno storico e record di presenze, oltre a 21.000 Da Renzi a Schlein passando per Bonazzini, i grandi nomi tra Pesaro e Vallefoglia per la festa dell'unità Grazie a tutti Una buona serata telespettatori di Rossini TV e ben ritrovati con questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, venerdì 23 agosto, che apriamo purtroppo con la triste notizia della scomparsa di Anna Maria Lugli La regina della moda pesarese che si è spenta all'età di 87 anni Pesaro saluta Anna Maria Lugli, la regina della moda, che si è spenta all'età di 87 anni Una donna la cui boutique in via Morselli ha rappresentato per una vita il luogo in cui la storica borghesia pesarese Si recava alla ricerca di capi di moda che Anna Lugli intercettava prima ancora che divenissero noti ai più Da Valentino a Kenzo, passando per Ungaro e tanti altri La regina della moda li ha portati uno ad uno nel pesarese Contribuendo alla nascita e alla fama di quelli che oggi sono marchi noti a tutti noi Abiti suoi che affascinarono anche l'attrice Anna Maria Pierangeli In una sfilata al Teatro Rossini Poi i rapporti con Dior e altri grandi marchi nati dalla parentesi milanese Ma Anna Lugli non era solo questo Come ricorda la figlia Camilla Anna era anche il simbolo delle donne indipendenti, anticonformiste e che non accettavano limiti e convenzioni Una donna simbolo di una città che ora si prepara a salutarla I funerali si terranno in Duomo La data, probabilmente lunedì, però non è ancora stata definita E cambiamo argomento per andare a comunicare invece la notizia arrivata nelle tarde ore delle pomeriggio Direttamente dalle comune di Pesaro Che riguarda l'annullamento del divieto di bagnazione temporaneo Per il tratto di mare di circa 30 metri Che parte dalla foce delle Geniche in direzione sud verso Fano Poiché le acque sono tornate pulite Discorsi inversi invece per Baia Flaminia Dove il bagno è temporaneamente vietato Per il tratto di litorale che va dalla foce delle foglie allo stabilimento dei visili delle fuoco Un divieto che arriva in seguito dei controlli effettuati da ARPAM L'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche Che nella giornata di oggi ha segnalato un superamento delle valore limite di parametri Dovuto al maltempo dei giorni scorsi Resta invece consentita la balneazione per tutto il resto del litorale pesarese E sempre restando in tema del maltempo che nei giorni scorsi Ha scosso la provincia di Pesaro Urbino e il resto della regione Marche Continuano ad arrivarci numerose segnalazioni da parte dei nostri cittadini Che come sempre vi ricordo di inviare al nostro numero di Whatsapp 370-366-7210 Delle segnalazioni che in questo caso riguardano dei tombini ostruiti dalle fogliame e le strade sporche Vediamo il servizio Il maltempo estivo, soprattutto ad agosto, ormai ce lo aspettiamo tutti Decisamente meno però le conseguenze che questi due giorni di pioggia hanno comportato per la città di Pesaro Tante infatti le segnalazioni che continuano ad arrivare sullo stato delle strade Ricoperte dagli aghi di pino o dal fogliame Che allo stesso tempo ha anche ostruito vari tombini della città Impedendo così il loro corretto funzionamento Con conseguente allagamento di strade e abitazioni al piano terra Da via Canale a via Romagnosi Sono varie le zone interessate da questa problematica A testimonianza di ciò La presenza di alcuni cittadini Che accogliendo l'appello del sindaco Biancani Stanno dando una mano a spazzare i viali e a pulire i tombini Dimostrando così un grande senso civico Allo stesso tempo però c'è chi si chiede come bisogna comportarsi Per quei tombini che non è possibile aprire E anche chi vuole sapere a chi rivolgersi nel caso si facesse male Il latemporale è cessato quindi Così come il maltempo Lo stesso però non si può dire per i disagi provocati da quest'ultimo E passiamo ora ad una notizia che riguarda un maxi sequestro di vongole a Fano Avvenuti in seguito a dei controlli guidati dalla Guardia Costiera di Pesaro Assieme alle personali dell'ufficio circondariale marittimo di Fano Che sotto il coordinamento della direzione marittima delle Marche Hanno interaccettato varie unità vongolari Tra cui 5 pescherecci con un pescato Che superava i limiti della quota giornaliera Per un totale di 2 tonnellate di vongole A ciò è quindi seguita una multa complessiva di 20.000 euro E delle sanzioni sulla licenza di pesca delle comandante Mentre il prodotto ittico è stato rigettato in e mare Poiché fortunatamente ancora vivo E torniamo a Pesaro per parlare del grande successo Del Rossini Opera Festival di questa sua 45esima edizione Oggi c'è stata la tradizionale conferenza stampa conclusiva Che ha presentato la stagione, quella del 2024 Come una stagione da record di presenze Un'edizione extra large Che ci ha fatto godere di tante cose belle Credo che siano riuscite tutte quante Siamo soddisfatti di come è andata Non abbiamo avuto problemi E penso che questa sera con la chiusura del Via Torrem Sarà una grande festa Un festival che per presenze ha segnato un record storico Nella storia della nostra manifestazione Oltre 21.000 presenze hanno accompagnato questi 17 giorni di spettacolo Quindi un dato che ci lascia profondamente soddisfatti E che ci conferma anche quello che un po' ci aspettavamo Che si è fatto squadra con il Capitale della Cultura Perché abbiamo segnato un notevole incremento delle presenze italiane Storicamente inferiori rispetto agli stranieri Molto un incremento che ragionevolmente possiamo supporre Che sia stato frutto anche della spinta del titolo di Capitale Italiano della Cultura In prossime settimane potremo fare delle analisi anche più dettagliate di numeri Ma intanto rimane la grande soddisfazione di questo numero molto importante C'eravamo prefissati l'idea di superare questa soglia psicologica delle 20.000 L'abbiamo superata abbondantemente E quindi siamo molto soddisfatti Il Rossini Opera Festival rimane un'iniziativa strategica Per la promozione culturale non solamente di peso di tutto il suo territorio Ma io penso a livello regionale E quindi sarà un festival che continueremo a sostenere Perché il ROF è veramente quell'iniziativa che noi abbiamo ormai fortunatamente da molti anni Che dà un valore aggiunto a tutta la cultura del nostro territorio Devo dire che l'auditorium è comunque un luogo bello Perché è nel centro della città Quest'altro anno vorremmo riaprire anche il Pedrotti Quindi riuscire a fare tutte e tre le opere nel centro storico della città Ovviamente non ha le dimensioni che ha il Palace Dove lì anche il livello di scenografia e sicuramente gli spazi sono più importanti C'è stato qualche problema all'inizio Piccoli problemi che abbiamo cercato di poter risolvere in tempi rapidi Quindi abbiamo anche i prossimi mesi per cercare di rendere questo auditorium Sempre più in linea con quelle che sono le esigenze che il ROF fa E dal Rossignopera Festival ci spostiamo a parlare di politica Con il consigliere comunale in quota lega Dario Andreoli Che ai nostri microfoni ha voluto rispondere Alle dichiarazioni del sindaco di Pesaro Andrea Biancani Sulle tema della sanità Sembra un orologio purtroppo l'argomento della sanità nel dibattito pesarese Che ogni volta puntualmente ritorna Soprattutto per quanto riguarda il tema del nuovo ospedale O ospedale unico a seconda di chi ne parla e in quale accezione Sull'argomento, dopo le parole del sindaco di Pesaro Andrea Biancani Che aveva chiesto all'opposizione del suo governo Di sollecitare la regione, essendo governata dalla centrodestra E di fare chiarezza su vari fronti A parlare ora è Dario Andreoli Consigliere comunale in quota lega Che accuse la PD di mala gestione durante i governi regionali precedenti Sulla sanità persistono tantissimi problemi che nessuno nega E non nega nessuno la difficoltà di riuscire a mettere a terra Una progettualità sanitaria che è stata completamente travolta Rispetto ai disastri del passato Accumulati dal Partito Democratico Dalla guida di centrosinistra Di cui negli ultimi cinque anni Biancani era un illustre consigliere regionale I ritardi nel nuovo ospedale sono dovuti a 30 anni Di mancate politiche fatti dal PD su questa città E di mancate promesse portate a termine Mentre questa giunta regionale Non solo ha finanziato con soldi pubblici Non con project financing il nuovo ospedale Ma è riuscito a mettere a terra E ad avere un cronoprogramma Che entro la fine della legislatura Poserà la prima pietra Un PD che ha lasciato la sanità Senza il finanziamento delle borse di studio per i medici Cosa che questa giunta regionale ha implementato Nel corso di questa legislatura Cercando di aumentare e cercando di bilanciare Il numero di pensionamenti rispetto al numero di nuovi medici entranti Un PD che ha lasciato una sanità smantellata nell'entroterra Ed è poi operata lungo la costa In nome della politica degli ospedali unici Davanti a queste tante criticità Tanta difficoltà di riuscire a dare risposte Alle liste d'attesa soprattutto post-covid Ma smettiamola con questa retorica Del quando si è in difficoltà Di quando questa maggioranza Pesaro è in difficoltà Cerca solamente uno scontro con la regione Che non fa bene nemmeno alla città Ma soprattutto che cerca solamente di distogliere l'attenzione Sulle grandi criticità di questo Inizio legislatura per Andrea Biancani Che sta smantellando una alla volta Tutte le scelte fatte dal suo predecessore E sempre restando in tema di politica Si preparano le giornate della festa Dell'unità sul nostro territorio Con grandi nomi in programma Tappesaro e Vallefogli in un 2024 Dove la città capologo è stata scelta Come sede per l'evento regionale Che va dal 28 agosto al 1 settembre Da Renzi a Schlein Passando per Bonaccini D'Alema Ilaria Cucchi Landini E tanti altri grandi nomi Del panorama politico Sindacale E non solo La festa dell'unità di Pesaro Che quest'anno è anche la festa regionale Dei dem marchigiani E quella di Vallefoglia Non hanno voluto far mancare nulla Poiché è da quei parchi E da quelle piazze Che vogliono ripartire Alla riconquista delle marche Questo sarà un evento di punta Con cui simbolicamente Ci prepariamo ad affrontare La campagna elettorale Per le prossime elezioni regionali Ma soprattutto In cui vogliamo dimostrare Che siamo già al lavoro Per l'alternativa Tra gli ospiti infatti Ci abbiamo tenuto molto Oltre che a chiamare a raccolta Tutta la nostra comunità democratica Da tutti i livelli di partito A tutti i nostri amministratori E rappresentanti istituzionali A tutti i livelli Anche molte forti Della società Diciamo così civile Tra associazioni di categoria Sindacati Terzo settore Perché siamo interessati Ad ascoltare la testimonianza Di chi vive il territorio Tutti i giorni Ma anche esponenti Di altre forze politiche Con cui abbiamo da tempo Un dialogo E con cui ci piacerebbe Costruire quel campo largo Che può essere Quel progetto forte Per poter rappresentare Rappresentare un'alternativa Credibile al governo Al governo Acquaroli Un palco Quello pesarese Che potrebbe diventare storico Se riuscirà a sancire La pace Tra PD e Italia Viva Visto il confronto Tra i due Matteo Ovvero Ricci e Renzi Dobbiamo essere capaci Di dialogare E di ascoltare Nella capacità di dialogo Ci sta anche un elemento Che è quello Della concretezza Io prima nella presentazione Facevo riferimento A una parola Che è tipica Di questi giorni Perché è il settantesimo Della scomparsa Di De Gasperi Che era la pazienza Io credo che in politica Servi la pazienza Ma non la pazienza Di chi dorme La pazienza di chi vigila Ed è pronto A rilanciare Una sfida politica Dialogare con Matteo Renzi Io penso che sia Un fattore positivo Ovviamente Bisognerà stanarlo Da a volte Quella Così Da quel modo Che ha Di mettere in cattiva luce La persona debole Di turno Ecco Per cui Io credo che Non solo Matteo Renzi Ma tante figure Del moderatismo Politico italiano Abbiano Capacità Di dialogare Con noi E noi dialogare Con loro E da lì Ripartire Tanti grandi nomi In programma Anche a Vallefoglia Dove i numeri Di amministrative Europee Hanno riportato Il PD Ad essere La primo partito La nostra festa Quest'anno Si allunga A posto di tre giorni Sarà di cinque giorni Iniziamo Mercoledì 28 agosto Finiremo Domenica Primo settembre La location È sempre la stessa Il parco Guido Volponi Vicino alla chiesa Di Montecchio E sarà un grandissimo Evento popolare Che intreccia La musica La commedia Dialettali E la politica Parteciperanno Tanti ospiti Anche di caratura Nazionale E non solo Perché avremo Tre europarlamentari Stefano Bonaccini Che è anche presidente Nazionale del Partito Democratico Matteo Ricci Ex sindaco di Pesaro Noeletto Al Parlamento Europeo E Camilla Laureti Che è la vicepresidente Del gruppo Dei socialisti Democratici Al Parlamento Europeo A loro si aggiungono Anche quattro deputati Della Repubblica Del nostro Appartito Claudio Mancini Irene Manzi Augusto Curti E anche Membri Del sindacato Questo perché Vogliamo tenere Vivo un dialogo Anche con Le altre forze politiche Ci sarà la presenza Di Ilaria Cucchi Che è una senatrice Di alleanza Verdi e Sinistra E un'alleanza Anche con le forze Sociali Parteciperà anche La nostra Segretaria regionale Chantal Bonprezzi E i consiglieri Mangialardi E Michela Vitri Che parleranno Di come la sanità Nella regione Marche Sta prendendo Una deriva Del tutto privata E sempre Nello stesso Fine settimana Precisamente Il 31 agosto La città di Pesaro Ed in particolare Le quartiere Delle Porto Si preparano Ad una partita Di basket Tra vecchie glorie Delle territorio Ed è la nazionale Italiana Per ricordare Lo storico Sportivo Pesarese Paolo Gurini Vediamo Un canestro Per Paolo E questo È il titolo Dell'evento Che si terrà A Pesaro Sabato 31 agosto Al campo Della parrocchia Della Porto Alle ore 18 Per ricordare Lo storico Sportivo Pesarese Paolo Gurini Scomparso Appena due anni fa Sarà una partita Che vedrà sfidarsi Sul campo di basket Due squadre Composte da Over 65 70 E 75 Una di queste Sarà la nazionale Di basket Dell'epoca L'altra invece Una selezione Pesarese Tra storiche stelle Della palacanestro Locale E non solo È una partita In ricordo Di Paolo Gurini Si affronteranno La squadra Della nazionale Italiana Over 65 70 75 Contro una rappresentativa Di vecchie glorie Di peso Sempre della parietà Diciamo Quindi questo È stato L'evento Che abbiamo Organizzato Che Diciamo All'interno Della manifestazione Pesaro Challenge Che si svolge Sempre Nell'ultima settimana Negli ultimi tre giorni Di agosto Del weekend di agosto Alla palla di pomodoro Che è nell'ambito Delle attività sportive Anche giovanili Questo è un po' Diciamo L'aspetto Poi Il fatto di aver Di aver fatto Un ricordo Di Paolo Gurini Mi è venuto in mente Proprio perché Paolo Diciamo Al circolo del porto E al porto E poi È stato un po' È stato Negli ultimi Dieci anni Della sua vita Perché abitava Direttamente qui E frequentava il circolo Ecco Perché Diciamo È stato Il motivo Per cui Ho organizzato Questa partita Ecco Chiaramente Io mi sono sempre Preoccupato di calcio Perché ho sempre Giocato di calcio E magari qualcuno Si potrà anche chiedere Il motivo Per cui l'ho fatto Ma l'ho fatto Appunto Per ricordare Paolo Come amico E come portolotto E come portolotto Di adozione Dall'Under 6 Dall'Under 6 Fino alla primavera E alla squadra Femminile 33 invece I componenti Della prima squadra Che si preparano Ad affrontare La nuova stagione Tra entusiasmo Coraggio E determinazione Accompagnati Da quell'area di festa Che si spera Di respirare Anche il 26 agosto Prima giornata Di campionato Che vedrà La Vis impegnata In trasferta Contro la Torres E con quest'ultima notizia Rigorante La Vis e Pesaro Termina qua Questa nostra Nuova edizione Di Rossini News Prima però Di lasciarvi Le previsioni Delle meteo Vi ricordo La programmazione In onda Su Rossini TV Perché questa sera Potremo vedere Il nostro programma Dedicato all'estate Pesarese Estate capitale Tutti venerdì Alle ore 21 e 20 In questa decima Puntata Potremo vedere Gli Allegri Mercoledì TV a Passeri E vi ricordo Il nostro appuntamento Con la rassegna stampa Domani mattina Sabato Saremo in diretta Alle ore 7 e 20 In diretta anche Sulla nostra Pasina Facebook E sulla nostra app Le repliche Che vedete In e-grafica E domani mattina Ci sarà Il nostro Marco Cadeddu Ed è davvero tutto Io vi ringrazio Per essere stati In nostra compagnia Vi auguro Un buon Proseguimento Di serata